Quattordici anni fa, dentro la nostra vita, è arrivata come un vulcano, Federica. Mahimè, la felicità è durata poco. Federica ha una malattia genetica rara e comunque è una patologia, diciamo, molto critica. Smard 1, atrofia muscolare spinale con distress respiratorio. Federica è una ragazzina di 13 anni e mezzo che vive in un ambiente serano e felice. Ha avuto un brutto incontro. È molto difficile riuscire a spiegare a qualcuno le vicende che sopporta una famiglia che deve affrontare una patologia sconosciuta. È una burocrazia assurda. Direi, e non ho timore di dirlo, ad una cattiva sanità, ad una mala sanità. Finché lei è qua con noi, noi dobbiamo essere più forti, far rispettare quelli che sono i diritti di Federica. Un bacione, vi vogliamo tanto bene. A presto. Un bacio bene. Un bacio bene. Un bacione, vi vogliamo tanto bene. A presto. Un bacio bene. Un bacio bene.